Noi siamo pronti, la delibera è pronta, per lunedì sarà approvata, quindi si autorizzano automaticamente tutti quegli spazi che l'anno scorso avevamo già autorizzato senza che i ristoratori debbano fare nulla, possono semplicemente tirar fuori i tavoli e le sedie e fare il servizio al tavolo esterno. Qualche perplessità continuiamo ad averla sulle misure perché continuiamo col coprifuoco alle ore 10, quindi si apre alle cene ma con un coprifuoco alle ore 10. Sinceramente da parte nostra facciamo difficoltà a capire come si possano organizzare i ristoratori in questo senso, però confidiamo che queste misure in qualche modo non mantengono le date di scadenza oggi previste ma che possono essere anticipate con delle misure meno gravi per il settore della ristorazione che quindi possano consentire la cena anche in orari più diversi, insomma dalle 10, speriamo almeno alle 23 o addirittura alle 24 ma sicuramente sarà così nel periodo estivo. Intanto noi stiamo, ci stanno arrivando anche tante altre richieste di autorizzazione perché rispetto allo scorso anno si può ai tavoli somministrare solo all'esterno, quindi ci sono tante attività che magari l'anno scorso non avevano fatto richiesta che in queste ore, proprio in queste ore, ci stanno facendo le richieste di spazi esterni.